Grazie a tutti. Quando era costretto a deviare in angolo questo colpo di testa dell'onipresente contro l'Azio. Riesce in tuffo a deviare in angolo. Asa vanno in vantaggio con Chinaglia su rigore, ma si... La Lazio di Chinaglia che viaggia... ...scende e tira dal fiume. Zoff riesce a deviare in angolo. Zoff con questa bordata su punizione. Sarà... Ma non sarà uno dei migliori in campo. E' appena uscito Shirea e la Juve sta rivedendo... ...classe, ma Zoff non si fa sorprendere. ...diando da campione un bel colpo di testa di Simoni. Cinque passi in corsa, tiro secco e Zoff blocca sicuro. Bella parata di Zoff che mette in angolo la pericolosissima punizione di Capone. Vanno spegnendo e il Cagliari che metteva in palio imbattibilità e primato in classifica convalida il successo. Nel momento c'è subito un tiro di Guidetti ed un gran volo di Zoff. ...muoversi con la sobrietà del primo tempo e Pruzzo attenta così... ...colpo di testa di Tessere ed autentica proiezza di Zoff che cambia mano in volo. Guardate, devia la palla in angolo. ...anche trovare attenuanti. L'Inter largamente rimaneggiata... Il cross viene colpito di testa da Ambu. È la prima parata difficile di Zoff. ...di testa di Cappellini. Il pesante passivo non fa desistere la Roma dal cercarlo, ma il Caparbio salvò... ...prima fase della partita, operando utili quanto eleganti disimpegni. ...sonera ma non solo. Poteva segnare la sua seconda rete anche Romano Fogli, ma la parata di Zoff, dunque grande portiere di Nozoff... ...violenta stangata del tedesco e stupenda deviazione in corner di Zoff... ...l'ex con la maglia dei partenopei, qui lo detti... ...Centro Reali e sulla sua secca conclusione Zoff in tuffo salva... ...Zoff che a stento si salva col piede... ...è la tua origine friulana che ti dà tanta forza. Beh, diciamo l'origine... ...due tentativi consecutivi di conclusione. ...i tutti e due non lo svolgere il loro compito. Palla diretta all'incrocio e grande deviazione oltre il fondo. Che tira forte, Zoff mette in angolo. ...un tiro di Neumann e Zoff che a tre minuti dal termine sbroglia una situazione di pericolo. ...Solomei, pregevole deviazione di Pruzzo e grande parata di Zoff che allontano. ...spesso imprecisa degli avversari per insediare Zoff con il cap... ...piede una parata eccezionale. La Juventus, il doppio petto, sul timido di rigore di sella, battezzato... ...difeso, come avete visto, il suo 1 a 0, ha giunto in contropiede... ...salvarsi sul Bertoni, imitato sul punto opposto da... ...a firma di Briatti. ...si sono rivelati decisivi agli effetti del risultato. ...la pace è proprio come un'attila, Damiani... ...e al 38esimo, Zoff compie il capolavoro della partita, deviando... ...calche azione da gol, regolarmente e spesso clamorosamente sciupata... ...il tiro di Maraschi. Poi, l'alto... ...colpo di testa e Zoff si distende sul gerito tappeto ad allontanare. E per finire... ...stile Byers 78, cerca di beffare Zoff, ma il portiere... ...di Receconi, colpo di testa di Facco e parata volante di Zoff. ...stana spara di controbalzo Manservisi e Zoff mette in angolo con difficoltà. Casarza senza rincorsa, Zoff freddissimo si stende sulla... ...grinta da vendere e scaricano la loro rabbia, come dimostra Maldera, su Zoff. Zoff che para. Al trentottesimo, i tifosi bianco... ...e più tardi... ...tutti i calciatori o gli sportivi, anche del periodo di... ...che Zoff respinge, ribattendo subito dopo anche la conclusione ravvicinata di Rampanti. Zoff ribatte in tuffo e Cucureddo allontana. ...per finire in bellezza, guardate Zoff sul tiro di Amenta. Prontissimo. ...ha sfuggito a Zurlini. In pratica, questo secondo tempo è stato caratterizzato dalle occasioni mancate. ...su un pallone aereo, costringeva Gentile a intervenire sfiorando l'autogol. Zoff deve allungarsi per neutralizzare una punizione di Soriac. ...ora il cross... ...e una parata di Zoff. ...quattresimo, la prima vera occasione, la crea Bruno Conti che dà qualche fastidio a Dino Zoff. La 132esima partita in Asi ha fatto applaudire per un bel intervento sul corpo di Zoff. ...e alcuni interventi prodigiosi, questo... ...ad insuperabile Baluardo alle incalzante azioni offensive juventine. Qui, il venti prosegue su tiro di Morini. Riprende Furino, subentrato allo spento di ieri, ma la precipita... ...laudiotala Mortini, parata di Zoff. ...lui che sul finire salva il risultato sul bel tentativo di Spinozzi. Il vero non... ...contratto, ecco comunque la risposta di Nerazzurri, mazzola per buon insegna, girata di testa e Zoff... ...che c'è il ragazzo... ...e così... ...con coltà. ...presa un Torino tanto spiritato da ipnotizzare gli avversari, che al risveglio scop... ...Muraro. ...epasinato, pallancorinare, Aureali... ...si tratta di compiere numeri di prestigio, non si tira mai indietro. Il farsa, un po' tesa e anche stanca, ma stupirebbe di più se non lo fosse. Dopotutto... ...sono sempre uno spauracchio per Zoff. ...spinta di Zorlini. ...la campione d'Italia, in totale, 14 vittorie, 13 pareggi e... ...Bertoni, il più agguerrito dei giocatori Viola, lo impegnava... ...non arriva, anzi per poco, il Messina non porta a due i suoi golli, qua è straordinario... ...per il Mattova, si tratta di una partita che almeno sulla carta non dovrebbe dire nulla, le due squadre sono... ...vedeva Zoff, bravissimo su Spadoni. Dalla panchina venivano ordini. Zoff ha consentito ai partenopei di lasciare il Bentegodi con il minimo scarto al passivo. Dalla panchina veniva. Dalla panchina veniva. ... ... Dalla panchina veniva. ... ... Dalla panchina veniva. ...